10 5 4 3 2 1 vai 10 destra 3 vai 10 50 zebra sinistra 2 no 50 zebra taglia destra 4 in sinistra 5 in sinistra 5 20 taglia destra 3 10 in sinistra 2 no 10 in sinistra 2 sporca 50 destra 5 20 frena sinistra 2 sporca 50 cartello sinistra 2 vai taglia destra 2 10 destra 1 50 occhio destra in sinistra 5 20 ritardo a destra 3 vai 10 in sinistra 4 100 virtuosica 50 km all'ora la cara vai destra in sinistra 3 vai 20 cartelli ritardo a destra 2 gira 20 frena destra 4 e subito intra sinistra 3 corta 200 virtuosica cala 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 giù 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 vai 50 frena zebra destra 4 sporca e subito destra 1 chiude vuol c'è vero sporco 100 piante frena destra 1 taglia sporca 100 20, destra 2 sporca, 20, con la casa sinistra 1 vai, 200, piante sinistra 5 sporca, per destra 4, e frena subito detra 2 sporca, in sinistra 2 vai, 20, sinistra 5, 20, la siepe frena tra 1 occhio interno, sento, fino a prova, fatta ben questa?